Pinocchio, per non aver dato retta ai buoni consigli del grillo parlante, si imbatté negli assassini. Davvero, disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio, come siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi. Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli. A lasciarli dire tutti si meriterebbero in capo di essere i nostri babbi e i nostri maestri. Tutti, anche i grilli parlanti. Ecco qui, perché io non ho voluto dar retta a quel luggioso di grillo. Chi lo sa quante disgrazie secondo lui mi dovrebbero accadere. Dovrei incontrare anche gli assassini. Meno male che gli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi per far paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. E poi, se anche ritrovassi qui sulla strada mi darebbero forse soggezione? Neanche per sogno. Andrei loro sul viso, gridando, signori assassini che cosa vogliono da me? Si rammentino che con me non si scherza. Se ne vadano dunque per i fatti loro e zitti. A questa parlantina fatta sul serio, quei poveri assassini, mi par di vederli, scapperobbero via come il vento. Caso poi fossero tanto ineducati da non voler scappare, allora scapperei io e così la farei finita. Ma Pinocchio non pote finire il suo ragionamento perché in quel punto gli parve di sentire dietro di sé un leggerissimo fruscio di foglie. Si voltò a guardare e vide nel buio due figuracce nere tutte imbaccuccate in due sacchi da carbone, le quali correvano dietro a lui a salti e in punta di piedi, come se fossero due fantasmi. Eccoli davvero, disse dentro di sé, e non sapendo dove nascondere i quattro zecchini se li nascose in bocca e precisamente sotto la lingua. Poi si provò a scappare, ma non aveva ancora fatto il primo passo che sentì agguantarsi per le braccia e intese due voci orribili e cavernose che gli dissero, o la borsa o la vita. Pinocchio, non potendo rispondere con le parole a motivo delle monete che aveva in bocca, fece mille salamelecchi e mille pantomime per dare intendere a quei due incappati di cui si vedevano soltanto gli occhi attraverso i buchi dei sacchi, che lui era un povero burattino e che non aveva in tasca nemmeno un centesimo farso. Vai via, meno Charlie e fuori i denari, gridavano minacciosamente i due briganti. E il burattino fece col capo e con le mani un segno come a dire, non ne ho. Metti fuori i denari o sei morto, disse l'assassino più alto di statura. Morto, ripete l'altro. E dopo ammazzato te ammazzeremo anche tuo padre. No, 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 il mio povero babbo no, gridò Pinocchio con accento disperato, ma nel gridare così gli zecchini gli si suonarono in bocca. Ah, furfante, dunque i denari te li sei nascosti sotto la lingua. Sputali subito. E Pinocchio duro. Ah, tu fai il sordo, aspetta un poco che penseremo noi a farteli sputare. Difatti uno di loro afferrò il burattino per la punta del naso e quell'altro lo prese per le balza. E li cominciarono a tirare screanzamente uno per in qua e l'altro per in là, tanto da costringerlo a spalancare la bocca. Ma non ci fu verso. La bocca del burattino pareva inchiodata e ribadita. Allora l'assassino più piccolo di statura, cavato fuori un coltellaccio, provò a conficcarglielo a guisa di leva e di scalpello fra le labbra. Ma Pinocchio, lesto come un lampo, gli azzannò le mani coi denti e dopo avergliela con un morso staccata di netto, la sputò. E figuratevi la sua meraviglia quando, invece di una mano, si accorse di avere sputato in terra uno zampetto di gatto. Incoraggiato da questa prima vittoria, si liberò a forza delle unghie degli assassini e, saltata la siepe dalla strada, cominciò a fuggire per la campagna. E gli assassini a correre dietro a lui, come due cani dietro a una lepre. E quello che aveva perduto uno zampetto correva con una gamba sola, né si è saputo mai come facesse. Dopo una corsa di 15 chilometri, Pinocchio non ne poteva più. Allora, vistosi perso, si arrampicò su per il fusto di un altissimo pino e si pose a sedere in vetta ai rami. Gli assassini tentarono di arrampicarsi anche loro, ma giunti a metà del fusto sdrucciolarono e, ricascando a terra, si spellarono le mani e i piedi. Non per questo si dettero per vinti, che anzi raccolto un fastello di legna secche a piede il pino, vi appiccarono il fuoco. In men che si dice, il pino cominciò a bruciare e a divampare, come una candella agitata dal vento. Pinocchio, vedendo che le fiamme salivano sempre di più e non volendo far la fine del piccione arrosto, spiccò un bel salto di vetta all'albero e via, corre da capo attraverso i campi e i vigneti. E gli assassini dietro, sempre dietro, senza stancarsi mai. Intanto cominciava a baluginare il giorno e si rincorrevano sempre, quando ecco che Pinocchio si trovò improvvisamente sbarrato il passo da un fosso largo e profondissimo, tutto pieno di acquaccia sudicia color caffellatte. Che fare? Una, due, tre, gridò il burattino e slanciandosi con una gran rincorsa, saltò dall'altra parte. E gli assassini saltarono anche loro, ma non avendo preso bene la misura, patapunfete cascarono giù nel bel mezzo del fosso. Pinocchio, che sentì il tonfo e gli schizzi dell'acqua, urlò ridendo e seguitando a correre. Buon bagno, signore assassini! E già si figurava che fossero belle affogati, quando invece, voltandosi a guardare, si accorse che li correvano dietro tutti e due, sempre imbacuccati nei loro sacchi e grondanti d'acqua come due panieri sfondati.